Presentata l'iniziativa Art Bike and Run in programma per 17, 18 e 19 maggio prossimi, una tre giorni per conoscere i territori della Costa Verde, dei Trabocchi e dell'Entrotarra Chietino, l'iniziativa promossa dalle Gambiente, Gallo, dalla provincia di Chieti e dalla Camera di Commercio. L'edizione 2024 è occasione ulteriore per promuovere il turismo, l'enogastronomia e la mobilità sostenibile della regione Abruzzo. Il contributo è importante che tiene insieme turismo, cultura, natura e la valorizzazione dei nostri attrattori, a partire anche da quelli enogastronomici. Apriremo con spiagge fondali pulite a Fossa Cesia coinvolgendo le scuole del territorio, una grossa campagna di educazione ambientale, sarà importante l'appuntamento del 2018 perché entreremo sulla linea Gustavo, sui cammini della pace e poi chiuderemo con la ciclo pedalata turistica di domenica. Dobbiamo continuare sicuramente a concentrarsi alla promozione del territorio abruzzese, ma oggi dobbiamo anche dedicare i prossimi 5 anni all'organizzazione di recettività in quel pezzo di costa abruzzese che oramai è sempre più conosciuta, di cui c'è grande voglia non solo a livello nazionale ma anche internazionale. È evidente che per ricevere e accogliere i turisti bisogna creare un'ecettività idonea e al passo con i tempi, su questo dovremo concentrarci con le amministrazioni locali per i prossimi anni. Ovviamente continua il duro di lavoro di promozione della regione Abruzzo che comunque ci ha dato risultati importanti.